Sì, è stata una partita equilibrata tra due squadre forti, perché sia noi che il Vicenza abbiamo degli organici che possono dire la propria in questo campionato. La differenza hanno fatto gli episodi, questa sera sono andate a nostro favore, però è stata una bella partita, è stata per me una grande emozione tornare da avversario qui al Menti, perché comunque sia io ho passato due anni e mezzo importanti della mia carriera, della mia vita e quindi ho sempre un bel ricordo di Vicenza. Noi siamo venuti qui consapevoli dei nostri mezzi, consapevoli che dovevamo dare continuità alla vittoria di martedì sera contro la Ternana e ci siamo preparati bene in settimana, l'avevamo preparata bene e devo dire che abbiamo fatto una buonissima prestazione, poi non è mai facile venire a vincere qui a Vicenza, quindi siamo contenti e adesso dobbiamo pensare alla prossima partita. Ma comunque sia non sempre una squadra può dettare magari il proprio gioco, c'è anche un avversario, noi comunque siamo stati bravi a chiudere gli spazi, siamo stati bravi a essere compatti e a metterli in difficoltà quando c'era l'opportunità, non vuol dire che una squadra perde una partita quindi non è una grande squadra. Ma sì, fino a due settimane fa giocavamo insieme quindi magari sapevo dove potevo metterli in difficoltà e lui sapeva dove mettermi in difficoltà a me. È stato un bel duello, questa sera è andata un po' meglio a me, però dai sono contento così, è andata bene.